Bentornati sul canale Non Aperte Questo Vlog, io sono il Gons e oggi stiamo qua a parlare di Suspiria e Suspiria. Questo film è importantissimo per me, mi ha accompagnato da ormai lontano maggio del 2018, quando si iniziava a parlare del film ho avuto l'opportunità di vederlo in anteprima e subito dopo, pochi giorni, due o tre giorni dopo ho fatto la recensione perché era un film attesissimo, tutti i fan dell'horror si chiedevano come sarebbe stato, c'erano i soliti che non volevano che venisse fatto un remake di Suspiria, alla fine se ne sono dovuti stare zitti perché il film è bello, è oggettivamente bello. Non si può negare che Luca Guadagnino abbia fatto un lavoro eccezionale. Guardatevi un piccolo estratto della mia reaction subito dopo l'anteprima e della recensione. Sto tornando dall'anteprima stampa di Suspiria, volevo fare un video reaction. Ragazzi sono ancora frastornato perché questo qua è un film meraviglioso, è un film meraviglioso, è un film potente. Guadagnino ha messo in piedi un film veramente sofisticato, veramente coraggioso e emozionante. A me mi ha travolto veramente, mi ha davvero travolto. E oggi sono qua a fare la recensione di Suspiria di Luca Guadagnino. Ha un lavoro sull'audio che è pazzesco. La presa diretta con il lavoro che è stato fatto sui suoni è qualcosa di fenomenale, è uno stimolo continuo per il vostro timpano. Veramente sembra di fare un bagno nei rumori. È un film sulla danza, la storia è la stessa ma i film sono diversi. È un film femminista questo. Il Dustwinton è un fenomeno, Dakota Johnson bravissima, bellissima, è un film sensuale, estremamente arrapante, è un tutto, veramente una marea di emozioni. Bisogna seguire tutto con attenzione per poterlo apprezzare appieno. Il film ha anche delle scene horror, è horror, ci sono tanti momenti in cui diventerà horror, diventerà spaventoso. Eccita Dario Argento ma non lo scimmiotta mai, non lo fotocopia mai, non tenta mai di fare quello che fa Dario Argento. Questo è un cult ragazzi, questo è un cult. Credo di avervi dato un'idea più o meno di quello che è la mia opinione su Suspiria. Ho rivisto tutti e due i film. Allora mi hanno mandato il Blu-ray di Suspiria del 1977 di Dario Argento, rimasterizzato, e il Blu-ray che esce in questi giorni di Suspiria di Luca Guadagnino. Li ho rivisti entrambi, anche se ero fresco dalle visioni precedenti, perché quando sono andato a vedere Suspiria di Guadagnino ho voluto rivedere Suspiria di Dario Argento. Siccome mi hanno mandato queste splendide edizioni, ho deciso di riguardarli entrambi per vedere anche la qualità di questi prodotti e un video, c'è poco da dire. Ovviamente sono eccezionali. Quello che mi ha stupito di più, vabbè questo è un prodotto nuovo, quindi è chiaro che si veda bene, quello che mi ha stupito di più è il remaster della versione di Suspiria di Dario Argento. È veramente una cosa allucinante, è qualcosa di incredibile, è incredibile. Sembra un film girato oggi per la qualità che ha. È il miglior tributo che si potesse fare alla fotografia di Luciano Tovoli e a Dario Argento. è veramente qualcosa di incredibile. Veramente, veramente, veramente una qualità incredibile. Suspiria di Luca Guadagnino ha una fotografia che è desaturata, mentre quella di Luciano Tovoli in Suspiria del 1977 è una fotografia molto satura, con i colori carichissimi, fortissimi, nettissimi. La fotografia di Suspiria di Luca Guadagnino è desaturata, è scarica, è slavata ed è una fotografia che a me piace tantissimo. Mi piacciono entrambe. Quella di Luca Guadagnino è stata una scelta indubbiamente legata al tentativo di distaccarsi dal film di Dario Argento. La differenza che ho trovato nel rivedere questo è proprio questo remaster. Questa qualità allucinante rende giustizia, veramente. All'interno dell'edizione trovate anche un'intervista a Luciano Tovoli, direttore della fotografia, è genio di questo film, senza nulla togliere a Dario Argento, ma diciamo che ha tantissimi meriti per il linguaggio visivo legato proprio ai colori e come i colori vengono usati per trasmettere dei messaggi. I colori raccontano la storia, una cosa che non accade proprio in tutti i film. Stiamo parlando di un film importantissimo e rivoluzionario. Non a caso Luca Guadagnino rimase da bambino molto impressionato, prima dal poster del film e poi qualche anno dopo dal film, perché da bambino non lo poteva vedere, gli rimase il pallino per tutta la vita insomma di rifare Suspiria e aggiungere delle cose che in questo Suspiria ci sono. È un film completamente diverso, anche se la storia è pur sempre quella di una ballerina che va in una scuola di danza, che però poi si rivela essere un covo di streghe. La storia è quella, ma prendono due strade diverse. Suspiria di Dario Argento è molto più misterioso, si racconta meno, è oscuro, è ignoto, mentre il Suspiria di Guadagnino è più esplicitato, racconta tantissimo, racconta retroscena, racconta ambientazioni, l'epoca in cui è ambientato, racconta la politica dell'epoca in cui è ambientato. Sono veramente due modi di raccontare la stessa storia completamente diversi. Un bellissimo esempio di maestria cinematografica in entrambi i casi. Nel video di Suspiria troverete, oltre a una card da collezione, il disco ovviamente. Riesco a metterlo dritto, così. Con queste splendide donne, una più splendida dell'altra, una più brava dell'altra. All'interno trovate le interviste a Luca Guadagnino, Tilda Swinton, Dakota Johnson e Tom York, che ha scritto delle musiche fantastiche. Ed interessante, all'interno vi trovate anche la classica galleria fotografica, dove ho guardato, ci sono un sacco di foto che non trovate in giro in rete. Poi trovate due speciali, il look, dove viene raccontata un po' la scenografia di Suspiria, come si è arrivati a questa ambientazione, che è bellissima tra l'altro. C'è anche una chicca sul discorso dell'uncino, perché c'è questo uncino che vedrete nel film, o che avete visto nel film, viene riproposto come elemento grafico ornamentale in stile anni 60-70. Adesso io non sono un esperto di design, però questo uncino viene riproposto, che ne so, come decorazione delle tende, di altri elementi di arredo della scuola. E vederlo, sapendo che c'è, rende tutto molto cupo, molto più spaventoso, secondo me. L'uncino che si ripropone continuamente. Insomma, streghe dappertutto, uncini. Un'ambientazione veramente, veramente inquietante. E poi c'è un bello speciale sul make-up, perché comunque Suspiria ha tantissime scene, splatter, horror, insomma mostri. Ce n'è, c'è di tutto e di più, molto di più rispetto a Suspiria di Dario Argento. Sono veramente agli antipodi. Addirittura Suspiria di Guadagnino, sul finale, è proprio uno splatter violentissimo. Qualcosa di... c'è sangue ovunque. Una cosa devastante. Suspiria di Dario Argento è un film, da un punto di vista tecnico, della fotografia eccezionale. Inquietante, angosciante. Una cosa che mi ha messo molto a disagio, e che trovo abbastanza inquietante, è che quando vengono uccise queste donne all'inizio, accoltellate, c'è questo braccio con il coltello che entra da fuori. Da fuori l'inquadratura. Non vedi il resto del corpo, non hai nessun altro elemento se non il braccio. Questo braccio è talmente estetizzato, che sembra qualcosa di soprannaturale. Come un braccio divino che spunta da fuori, con distacco, con distanza. Una distanza che mi inquieta, perché l'assassino non è partecipe. Io ti colpisco e tu non puoi farci niente. Una cosa veramente inquietante, questo braccio che uccide. Poi è molto bella anche la scena della vetrata, dove lei cade con la faccia nella vetrata. La vetrata quando si rompe è stupenda, cade giù, si impicca con il cavo. Una cosa veramente... è arte, è arte. E anche molto surreale. Quando colpisce la donna, al pe, e a un certo punto gli si vede il cuore, come se a furia di colpire si scavasse un varco nel torace, si vede il cuore che pulsa e lui colpisce il cuore. È un'immagine molto, molto potente, perché entra nell'intimità, ti entra dentro, dentro i tuoi organi, qualcosa che noi teniamo protetto, no? Con la nostra carne, con la nostra pelle. E lui colpisce il cuore, capito? Molto bella anche la scena dove rimane impigliata dentro questi fili metallici. Un'angoscia incredibile. Suspiria di Luca Guadagnino. Attrici bravissime, una cura dei dettagli, della scenografia incredibile. Un forte tentativo di fare qualcosa di nuovo e di aggiungere qualcosa al vecchio film. di celebrarlo pochissimo, nel senso che ci sono delle piccole citazioni, per esempio quando Dakota Johnson balla e inizia a fare, non so, chi fa danza magari sa come si dice, quando inizia a girare intorno, con la testa, no? E a un certo punto si ferma e vede Madame Blanche, e c'è uno zoom che, mentre si avvicina, si muove così. È uno zoom tipico che c'è anche in Suspiria del 1977. In Suspiria di Luca Guadagnino c'è solo in quella scena lì, mi sembra, non vorrei sbagliare. Questa per me è una citazione del cinema di Dario Argento, del suo modo di fare regia. Ho trovato Suspiria di Luca Guadagnino, un film estremamente coinvolgente da un punto di vista emotivo. A differenza di Suspiria di Dario Argento, dove c'è una sorta di distacco, qui sei coinvolto. Ti senti dentro a questa confraternita di donne? È veramente un film horror, anche se non sembra all'inizio, può sembrare un'altra cosa. È un film horror, anche se a qualcuno potrebbe non far paura. Alla fine ci sono le streghe, ci sono le streghe nude, che ballano con questo ballo veramente spaventoso, molto realistico. Hanno una vita quotidiana fuori, ma sotto sotto sono delle streghe malefiche. Ci sono dei mostri, ci sono scene splatter, sangue a volontà. Questo è un aspetto che non traspare tanto dalla copertina, dal trailer. Mi è piaciuto perché è proprio un film di genere, anche se è molto autoriale, è un film di genere. Sono due edizioni fenomenali da avere entrambe. Io che colleziono film horror e mi piaccio tenerli, io avrò Suspiria di Dario Argento e Suspiria di Luca Guadagnino vicini, proprio uno di fianco all'altro, sulla libreria. Quando uscirà l'edizione li avrò vicini. E non staranno male insieme. Saranno come due gemelli eterozigoti. Se non sapete cosa vuol dire, vuol dire che sono quei gemelli che non sono uguali, che non sono identici. Vabbè, era un modo per fare una metafora del cazzo. Le metto qua. Uno vicino all'altro, così possono farsi compagnia. Vi lascio il link in descrizione per acquistare questi due film. Se il video vi è piaciuto mettete like, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di entrambi i film e quale a voi è piaciuto di più. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video.